Ben ritrovati al conserto appuntamento con l'educazione finanziaria e con Smart Television. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo del prestito personale. Il prestito personale è un prodotto molto conosciuto di cui tutti noi sicuramente faremo o abbiamo fatto utilizzo e oggi parleremo appunto, entriamo nello specifico di quali sono le varie tipologie di prestito, quali sono le differenze che ci sono appunto fra i vari tipi di prestito, parleremo di un argomento importante della differenza fra TAN e TAIG e quali punti di attenzione dobbiamo avere quando stipuliamo appunto un contratto di finanziamento. Tipologia di prestito. Intanto dobbiamo sapere che quello più conosciuto è il prestito personale, però abbiamo anche il cosiddetto prestito finalizzato e ancora di più il prestito garantito, che come vedete ha un simbolo che è un quinto, vedremo poi per quale motivo. Partiamo appunto dal prestito personale. Che cos'è il prestito personale? Il prestito personale è un credito concesso ai consumatori che consiste nel finanziamento di una determinata somma che sarà rimborsabile secondo un piano di pagamento a rate costanti. Il prestito personale quindi, come parliamo anche nelle puntate precedenti, così come il conto corrente, dobbiamo ricordarci che è un contratto, è un contratto che noi stipuliamo con l'istituto di credito, l'istituto finanziario, dove ci impegniamo a rimborsare la somma che ci viene data al finanziamento con un pagamento di rate costanti. È una forma di credito, il prestito personale riservato ai consumatori non finalizzata. Che cosa significa? Significa che nello specifico, quando andiamo a chiedere un finanziamento, dobbiamo dare, sicuramente la necessità di partenza sarà quella di realizzare alcuni progetti, che possono essere progetti familiari o eventualmente progetti di ristrutturazione, acquisto auto, qualunque essi siano, ma a differenza del prestito finalizzato, che è la seconda categoria dei prestiti, come dice la parola stessa, sarà finalizzato l'acquisto di un bene e servizio specifico. Esempi di prestito finalizzato sono quelli che facciamo quando andiamo nei centri commerciali o dal concessionario per comprare l'auto. Quindi, mentre il prestito personale è una somma di denaro che l'istituto ci concede e poi noi personalmente ci richieremo a fare l'acquisto, realizzeremo il progetto, nel prestito finalizzato invece colui che ci finanzia sarà sempre l'istituto di credito, ma tramite il rivenditore, sia esso concessionario, sia nel caso di arredamento, chi ci sta vendendo la cucina, eccetera. Quindi la differenza tra il prestito personale e il prestito finalizzato è proprio questo. Nel caso del prestito personale il soggetto richiedente si reca nell'istituto o nella banca per ottenere il finanziamento e poi da sé lo utilizzerà per la realizzazione del progetto. Nel caso invece del prestito finalizzato ci sarà sempre una banca o un istituto di credito che finanzierà il nostro acquisto, ma lo farà tramite un rivenditore. Una cosa importante che viene in mente e che è meritevole di essere focalizzata è che sia nel caso del prestito personale che del prestito finalizzato sono escluse le esigenze di credito che riguardano attività professionali, cioè quando parliamo di prestito personale o prestito finalizzato o di prestito appunto di cui tratteremo oggi, parleremo sempre di progetti o di esigenze private barra familiari, ma mai di attività professionali, per questo tipo di esigenze ci sono appunto prestiti ad hoc. Vediamo quali sono le caratteristiche del prestito personale, l'abbiamo un po' già detto e già toccato. È un tipo di finanziamento che viene appunto erogato per soddisfare esigenze di liquidità per la realizzazione di progetti familiari e privati, sono escluse da questo tipo di finanziamento tutte le esigenze che appunto riguardano le attività professionali. Focalizziamoci invece ora su un altro aspetto importante, che al di là che appunto di sapere che cos'è il finanziamento, la prima cosa che ci deve saltare all'occhio, che ci deve appunto porre l'attenzione è quello quanto ci costa questo finanziamento. Diciamo subito che il costo dipende da diverse variabili, per esempio può dipendere dalle spese iniziali, sappiamo che tutte le volte che accendiamo finanziamento o quasi, possono essere previste delle spese istruttorie, cioè spese per l'istruttoria della pratica. Poi ci sono, possono essere delle spese cosiddette accessorie, che sono per esempio assicurazioni abbinate alla tipologia o a quel tipo di finanziamento e non ultima l'altra voce di costo che impatta in maniera importante è quella appunto del tasso di interesse. Tasso di interesse che però qui si apre la disputa, l'argomento si spacchetta in due, qual è il tasso di interesse a cui devo fare riferimento? Il TAN o il TAIG? Intanto in tutti e due casi sono due acronomi che sintetizzano la loro definizione. Il TAN che cos'è? È il tasso annuo nominale, cioè è il tasso di interesse, ossia il prezzo che viene espresso in percentuale su base annua. Detto in maniera molto più semplicistica è il ricarico, è lo spread, è quello che viene aggiunto al capitale richiesto, cioè se il cliente richiedente chiede una somma di denaro in prestito, dovrà restituire oltre a quella somma anche un tasso di interesse applicato a ciò che sta chiedendo. Ricordiamoci subito che il TAN indica appunto questo tasso di interesse annuo che però a differenza del TAIG che vedremo dopo non esprime il costo complessivo del finanziamento che può essere invece molto più alto perché comprende sia le spese, oneri e commissioni accessori. Pertanto un prestito con TAN pari a 0 potrebbe avere invece un TAIG maggiore di 0, vediamo che cosa significa. Il TAIG invece è un tasso di interesse che rappresenta il costo totale del finanziamento, del credito a carico del richiedente e consumatore che comprende sia gli interessi che tutti gli altri oneri, quindi tutte le altre spese. In estrema sintesi anche questo è espresso in percentuale su base annua che deve essere indicato nella documentazione, anche questo contrattuale nei messaggi pubblicitari e nelle offerte commerciali di cui spesso prendiamo visione tramite internet e social o anche nella pubblicità televisiva. Quindi TAN e TAIG la differenza è il TAN indica nello specifico il tasso di interesse su base annua, il TAIG invece indica oltre al tasso di interesse è dato dalla somma del tasso più le spese previste per quella operazione di finanziamento. quindi l'attenzione, come spesso dico ai clienti o anche da chi ci segue e che ci pone domande in tal senso, più che sul TAN, TAN va fatta sul TAIG che è diciamo il tasso effettivo che io vado a pagare. Vorrei fare un esempio molto semplice per capire meglio la differenza. Mario compra una televisione a 1000€ con finanziamento a tasso zero in 10 rate da 100€ ciascuna. Fin qui è chiarissimo in matematica, 1000 diviso 10, 10 rate da 100€ ciascuna. Per la richiesta di finanziamento Mario ha 100€ di spese istruttoria, cioè nel momento in cui va a stipulare il contratto di finanziamento in maniera chiara, dettagliata e esplicitata da chi eroga il finanziamento, gli viene fatto notare che per accendere quel tipo di finanziamento ci sono previste 100€ di spese istruttoria. È bene chiarire che Mario alla fine del finanziamento pagherà la televisione 1100€, ossia la somma di 1000€ del capitale che servono per l'acquisto più le 100€ delle spese pratiche, il consumatore Mario pagherà 1100€. Di fatto è vero che avrà contratto un finanziamento a tasso zero, perché questo è dovuto dal fatto che i 1000€ diviso 10 rate, la rate da 100€, quindi non ci sono interessi conteggiati, ma in realtà il TAEG è il 10%, perché 100€ che sono la somma delle spese previste per quel finanziamento su 1000€ corrispondono al 10%. È bene ricordare anche che in queste spese che ci danno come parametro il TAEG, rientrano anche eventualmente le spese di incassorata, cioè tutte le volte che se decidiamo di rimborsare le rate tramite un conto corrente, viene addebitata la rata, è previsto un eventuale costo di addebito e anche questo poi viene conteggiato nel TAEG, eventuali come dicevo nell'introduzione spese assicurative previste a copertura del credito o di altre garanzie, sono tutti costi che vanno a impattare sul TAEG, che è quello che effettivamente pago. Quindi io dico sempre, il TAN è il tasso di partenza, sì è il tasso di interesse importante, ma quello fondamentale è il TAEG, perché è complessivo di tutto, chiave in mano, quanto mi costa, devo fare riferimento al TAEG. Altri punti di attenzione importanti è una domanda a cui spesso mi ritrovo anche a dover rispondere, ma una volta che ho fatto un contratto di finanziamento posso rescedere da questo contratto? E' bene sapere che ho 14 giorni di tempo dalla data della firma inviando una comunicazione a chi mi finanzia, quindi all'istituto, secondo le modalità che sono indicate. Posso rescedere addirittura senza non avere alcuna motivazione, ho semplicemente un diritto di ripensarci. Questo è previsto dal codice del consumo, quindi il consumatore ha tutti gli effetti una tutela di 15 giorni per poter eventualmente rescedere dal contratto di finanziamento. Scadenza che spesso non è conosciuta dai più. Se nel frattempo ho ricevuto il finanziamento o anche solo in parte e cosa succede? Decidi di rescedere dal contratto, devi restituire ciò che hai ricevuto entro 30 giorni dalla comunicazione a recesso, chiaramente pagando la quota parte dei interessi maturati fino alla restituzione. Quindi 15 giorni di tempo per poter esprimere il mio dissenso, la mia volontà di rescedere, entro 30 giorni dalla data in cui comunico questa volontà di rescedere, sono i giorni in cui devo restituire ciò che ho ottenuto dall'istituto. Altra domanda su cui è importante cuore l'attenzione è ma posso rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento o in tutto o in parte l'importo dovuto? Direi assolutamente di sì, si può restituire anche parzialmente il capitale che ho ottenuto a finanziamento, questo ci dà modo di poter ridurre i costi totali del credito e eventualmente ci saranno anche parametrati gli eventuali costi e gli interessi da dover restituire e l'eventuale rata. Quindi si può estinguere un finanziamento sia anticipatamente per intero ma anche parzialmente. Quindi questi erano due argomenti importanti su cui merita porre l'attenzione. Quali rischi può comportare contrarre un finanziamento? Intanto dobbiamo avere la consapevolezza che come tutti i contratti, anche il contratto di finanziamento ci dà e ci genera comunque un impegno che può essere gravoso nel tempo, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, di difficoltà sanitaria, eccetera, dobbiamo avere la consapevolezza che quando stiamo contraendo, stiamo firmando per avere una richiesta di finanziamento sarà un impegno nel tempo. Quindi a oggi magari possa avere le condizioni per poterlo sostenere e magari in un periodo successivo a seguito di eventuali imprevisti. Dobbiamo anche avere la consapevolezza che il mancato pagamento può comportare delle conseguenze. Quali sono queste conseguenze? La segnalazione in criffe, come abbiamo visto nella puntata precedente, è la centrale rischi delle finanziarie degli istituti di credito a cui fanno riferimento per la concessione dei crediti, ma anche di eventuali costi che possono essere generati da un ritardo o da un mancato pagamento. Quindi è importante veramente che la nostra attenzione sia fatta al momento in cui si deve prendere l'impegno di fare un finanziamento, perché è un impegno appunto nel tempo. Vediamo ora invece la seconda forma di prestito, che io ho chiamato nell'introduzione prestito garantito, ma che è più conosciuta come cessione del quinto. Allora, qui va fatto subito un chiarimento. Intanto perché si chiama prestito garantito, lo vedremo dopo. La cessione del quinto è un prodotto che in questo momento viene sempre più utilizzato in questo momento di difficoltà economica. All'inizio e molti anni fa non era ben normato dal legislatore, perché era uno strumento su cui è evidente che anche gli istituti di credito abbiano avuto un utilizzo improprio e abbiano generato anche degli indebitamenti importanti e gravosi sui consumatori, finché Banca d'Italia, insieme anche all'istituto di vigilanza predisposto e che vigila sull'attività degli intermediari finanziari abbia deciso invece di dare una pulizia a livello normativo di quelle che sono le regole di utilizzo di questo prodotto. Vediamo che è un prodotto che ha la sua importanza, che nella coscienza di molti veniva utilizzato come prodotto per chi era, come dire, in maniera molto semplice all'ultima spiaggia, ma in realtà oggi può rappresentare una forma di finanziamento e una soluzione ad eventuali situazioni non proprio chiare o nitide. Quindi, prestito garantito o cessione del quinto. Perché si chiama prestito garantito? Perché come vedremo, a differenza del prestito personale, che non ho detto prima volutamente ma che accenno ora, su cui non sono previste garanzie di nessun tipo, nel prestito garantito o cessione del quinto, per chi eroga il finanziamento e quindi per l'istituto di credito o eventuale banca, in realtà qualche forma o qualche sintomo di garanzia ce l'abbiamo. Chi potrà richiedere questa forma di prestito? Tutti possono chiedere il prestito garantito barra cessione del quinto? Allora, veniamo insieme. Intanto partiamo da quella che è la definizione. Che cos'è la cessione del quinto? La cessione del quinto e delle stipendio è una tipologia di prestito personale che però è destinata a lavoratori dipendenti e a pensionati. Quindi, a differenza del prestito personale a cui può fare riferimento anche, per esempio, un libro professionista, la cessione del quinto e poi vedremo perché non è la tipologia di prestito adatta a questa categoria di soggetti. Il rimborso delle rate avviene tramite cessione di una quota dello stipendio o della pensione a favore del soggetto finanziatore e qui viene spiegata in maniera un po' tecnica ma allo stesso tempo anche semplice perché si parla di prestito garantito. Perché in fin dei conti chi eroga il finanziamento, siccome la rata viene pagata direttamente tramite una quota dello stipendio o della pensione e viene come c'è scritto, come vedete dopo, la quota viene direttamente trattenuta in busta paga, per chi finanzia c'è una sorta di garanzia. Questa quota che viene direttamente trattenuta non può, e per cui si parla di cessione del quinto, non può assolutamente eccedere la quinta parte dello stipendio e della pensione netta mensile. Quindi, ripilogando, la cessione del quinto è una partigliata tipologia di prestito che è destinata a lavoratori dipendenti, e poi vedremo quali, e pensionati. È un finanziamento che può essere richiesto per bisogni personali che riguardano la vita privata o familiare, e realizzare un progetto, ma anche solo per necessità di denaro liquido. Che cosa significa? Significa che a differenza del prestito personale, che comunque prevede la realizzazione, una causale, una motivazione per la richiesta di prestito, nel caso di cessione del quinto prestito garantito, la motivazione potrebbe anche non essere esplicita, ma potrebbe essere semplicemente per avere liquidità. Questo tipo di finanziamento prevede, però contrariamente rispetto al prestito personale in cui è invece un servizio accessorio, prevede per legge l'obbligo di un'assicurazione per garantire il pagamento del debito residuo in caso di due eventi eccezionali e imprevisti che sono la perdita del lavoro e il decesso del soggetto richiedente. Quindi a differenza del prestito personale e del prestito garantito, l'assicurazione, perdita di lavoro e causa morte sono obbligatori per legge. Questo fa sì che oltre alla garanzia della busta paga o della parte della pensione, c'è anche questa garanzia ulteriore della assicurazione obbligatoria. Quindi per questo si parla di prestito garantito nel caso di cessione del quinto. Come funziona? Che io sia un lavoratore pubblico o privato oppure un pensionato, la legge ci permette di restituire la somma avuta in prestito cedendo al soggetto che ci finanzia un quinto della pensione o dello stipendio. In pratica sarà il datore di lavoro o l'ente previdenziale nel caso appunto del pensionato che si trattene la rata dello stipendio e pagherà l'ente che ci ha finanziato. Quindi è come se noi deleghiamo l'Inps o il nostro datore di lavoro per il pagamento della rata, direttamente trattenendolo dallo stipendio. Questo che cosa implica? Due considerazioni importanti. La prima è che la rata appunto viene pagata dal datore di lavoro e dall'Inps, è una conseguente garanzia per chi finanzia e implica una differente valutazione in merito redizio. Che cosa significa? Significa che mentre nel prestito personale la valutazione viene fatta sul richiedente il prestito, quindi sul soggetto che fisicamente o tramite online fa la richiesta di prestito, sul soggetto richiedente appunto, nel caso della cessione del quinto barra prestito garantito la valutazione più che sul soggetto richiedente viene fatta su chi? Sul datore di lavoro, cioè sull'azienda per cui quel soggetto lavora. Sarà quella che dovrà essere meritevole del credito, sarà quella che dovrà dare all'ente finanziatore le garanzie di stabilità economica per poter ottemperare nel tempo alle rate previste dal finanziamento. Ed è anche per questo che spesso nel sentiment generale delle conoscenze di tutti, la cessione del quinto viene utilizzata anche dai cosiddetti cattivi pagatori, perché la valutazione viene fatta sul datore di lavoro più che sul soggetto richiedente, perché sarà lui che si impegnerà appunto a pagare mensilmente le rate per conto tramite lo stipendio del richiedente. Va anche da sé la seconda risposta, la seconda considerazione è che non tutti possono richiederla. E chi può chiedere quindi la cessione del quinto? I requisiti sono, per quanto riguarda i dipendenti, che questi abbiano un contratto a tempo indeterminato, quindi ci sia una stabilità lavorativa, chiaramente residenza nel nostro territorio, nella nostra nazione, quindi residenza italiana, quindi ci sia una stabilità anche sociale, che abbia un'età compresa tra i 18 e i 63 anni, perché questo oggi arriviamo anche a 65, e che ci sia la cosiddetta assicurabilità dell'azienda se si è dipendente di un'azienda privata, cioè è la risposta a quello che dicevo prima, cioè ad una valutazione del merito sul creditizio, sulla sostenibilità dell'azienda per cui si lavora. La valutazione viene fatta su questa. Ci sarà un'assicurazione che nel caso in cui si perda il posto di lavoro o che eventualmente mi vada a pregiudicare il proseguimento del rapporto continuativo di lavoro, ci sarà una situazione che interverrà per il pagamento del residuo. Quindi se l'azienda merita di essere valutata positivamente, il dipendente potrà chiedere l'accessione del quinto, altrimenti non potrà farlo. Per i pensionati invece non avere un'età superiore a 90 anni al momento della scadenza del finanziamento, anche se le società spesso, le società di istituto di credito si limitano agli 85 anni, e avere una pensione con un importo minimo che è quello stabilito attualmente per legge a netto della quota cedibile, cioè c'è una cosiddetta per legge anche giustamente cosiddetta soglia di sussistenza entro la quale non si può scendere. Quindi chi ha una pensione minima o sociale chiaramente non potrà cedere una quinta parte del proprio netto della pensione per poter richiedere questo tipo di finanziamento. Perché? Perché andremo sotto una soglia di sussistenza stabilita per legge a garanzia e tutela appunto del consumatore e del cittadino. Quindi diciamo nell'eventualità in cui l'azienda per il caso dei dipendenti privati non sia assumibile, non meriti una valutazione positiva, il dipendente non può fare richiesta. Nel caso dei pensionati o perché siamo troppo in là con l'età, non siamo propriamente sempre così giovani, o perché appunto purtroppo abbiamo una quota minima di pensione, in quel caso lì non possiamo richiedere il finanziamento tramite l'accessione del quinto sulla pensione. Altre specifiche, la somma massima prevista viene stabilita sulla base dell'importo dello stipendio della pensione, perché questo è un conto matematico. Se possiamo avere massimo un quinto della pensione o dello stipendio come rata mensile, è chiaro che più alta sarà la somma della pensione o del proprio stipendio e più potremmo ottenere di conseguenza come finanziamento. La durata del rimborso va da un minimo di 2 anni a un massimo di 10, come tutti i finanziamenti, è anche rinnovabile chiaramente poi a determinate condizioni. Se sei un pensionato poi richiede l'accessione di un solo quinto, perché faccio questa specifica? Perché questa è un'altra differenza tra l'accessione del quinto della pensione e l'accessione del quinto dei privati, perché mentre nel caso in cui io sia un dipendente privato, potrei eventualmente per alcune aziende, privato o pubblico, dipendente diciamo, potrei chiedere anche un eventuale secondo quinto, quindi un'eventuale seconda trattenuta sul mio stipendio e quindi ottenere una somma importante di finanziamento, per quanto riguarda la pensione, giustamente questo non è previsto dalla legge, cioè possa avere massimo una sola trattenuta mensile. Nel caso del dipendente privato o pubblico, nel caso della seconda trattenuta viene chiamata delegazione di pagamento, proprio per distinguere dalla prima che invece viene chiamata cessione del quinto. Un'altra importante specifica è che mentre il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto, quindi diciamo una sorta fra virgolette di diritto chiesta, il dipendente o il pensionato può chiedere appunto di diritto la cessione, nel caso della seconda trattenuta il datore di lavoro è libero di accettare o meno la delegazione di pagamento. perché anche in questo secondo caso, come nel primo, sarà lui eventualmente a pagare, ad anticipare diciamo, o a trattenere meglio dalla busta paga, dallo stipendio del dipendente, la seconda quota. Quali sono i costi di questa operazione di finanziamento? Il costo di questa forma di finanziamento può essere sicuramente più onerosa di altre, perché? Perché a differenza del prestito personale il prestito garantito prevede anche il costo di un'assegurazione che abbiamo detto è obbligatoria. Quindi il costo comprende gli interessi, le spese istruttorie, le spese di incassorata, il costo di comunicazione, le imposte e la copertura assicurativa obbligatoria, come nel prestito personale, gli interessi, le spese istruttorie o eventuali altri, come abbiamo visto, oneri accessori. Ma nel caso dell'accessione del quinto c'è appunto anche sicuramente il costo della copertura assicurativa o in alcuni casi eventualmente questo costo può essere assorbito nel TAN, quindi nel tasso iniziale di partenza e quindi magari essere pagato o anticipato dall'istituto di credito. Alcune commissioni e spese sono fisse e non dipendono dalla somma richiesta e quindi in questo caso più l'importo richiesto è basso e più vanno a incidere sul calcolo del TAN e del TAIG che ha la stessa logica del prestito personale, quindi anche in questa seconda tipologia di prestito non cambia assolutamente niente nel calcolo e nella differenza tra TAN e TAIG perché gli indici di costo sono gli stessi. Stesso discorso come per quanto riguarda il prestito personale posso rescedere dal contratto questo è un finanziamento come il prestito personale, quindi anche in questo caso si fa riferimento alle due scadenze ed è a tutela appunto del consumatore, quella dei 14 giorni entro il quale inviare una comunicazione per eventualmente rescedere dal contratto senza dare alcuna motivazione e se eventualmente avesse già ricevuto in questi 14 giorni una somma di denaro questa la dovrò restituire entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso. Anche qui è bene soffermarci anche su quelli che possono essere i rischi, fra virgolette rischi, nel senso quali sono i punti di attenzione che posso avere nel contrarre un finanziamento tramite cessione del quinto. Anche qui sappiamo che è un impegno economico importante da sostenere nel tempo sia per una persona sia per una famiglia e per questo potrebbe essere appunto un impegno gravoso. Anche in questo caso eventuali finanziamenti anche tramite la cessione del quinto possono e sono registrati nella centrale rischi, la famosa RIF di cui abbiamo fatto riferimento e in caso di cessione del quinto ci dobbiamo ricordare che per i dipendenti c'è un vincolo sul TFR maturato. Cioè vuol dire che nel caso in cui io vada ad accedere alla richiesta di prestito garantito o cessione del quinto, se sono un dipendente privato devo sapere che per il periodo del finanziamento avrò comunque un vincolo sul TFR che io ho maturato in quel momento. Ad ulteriore garanzia appunto che il pagamento di ciò che residua in un'eventuale situazione di inadempienza da parte dell'azienda poi si va ad imbattere come conseguenza sul TFR maturato del dipendente. Ultimi punti di attenzione per poter chiudere appunto con questo argomento che mi rendo conto è anche un po' complesso e complicato, sono questi. Prima di incontrare un finanziamento tramite cessione del quinto, di valutare bene che si rinuncia a una quota fissa del nostro stipendio perché dal momento in cui viene trattenuta sappiamo che per fare un esempio i 1000 euro mensili se 200 euro mi servono per pagare la cessione del quinto io tutti i mesi da quel momento in poi avrò 800 euro a disposizione e non più 1000. Cambia poco rispetto a un finanziamento perché comunque anche in quel caso dovrò fare i conti sul fatto che avrò una rata costante da pagare. confronta le offerte presenti sul mercato, sempre anche in questo caso leggendo i cosiddetti fogli informativi confrontare le offerte vuol dire fare riferimento al TAIG oltre che al TAN il TAIG come ho detto prima e come ho detto sempre è l'elemento di costo di cui dobbiamo tenere conto e che gli istituti e gli intermediari devono assolutamente pubblicare. ricordiamoci che nella cessione del quinto l'assicurazione che ci tutela in caso di eventi negativi che possono essere purtroppo il decesso o la perda di lavoro sono obbligatori per legge e va valutato il fatto che appunto essendo obbligatorio rientra nel costo del finanziamento. se qualcosa non c'è chiaro dobbiamo sempre e nel nostro diritto chiedere dei chiarimenti e verificare soprattutto per quanto riguarda questo prodotto perché come ho detto all'inizio di questo appuntamento in precedenza ne è stato fatto un abuso sconsiderato ed ha messo per questo la Banca d'Italia ha messo l'occhio ed ha finalmente da qualche anno normato in maniera più chiara il prodotto. ci dobbiamo anche accertare che chi eroga questo particolare tipo di finanziamento sia un soggetto autorizzato a farlo e riconosciuto ed è scritto negli elenchi di Banca d'Italia. quindi vi lascio con questi punti di attenzione e con alcuni consigli e considerazioni sul prestito personale e sulla prestito garantito o meglio detta cessione del quinto. vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. grazie a tutti